Ecco, c'è solo due meca, due cica, come spostano un confezio? Guarda, 700 amici ecco, amica! Se attacca? No, no, non mi stai da qui! Oh, c'è una richiesta di amicizia, c'è una richiesta di amicizia! Baffo? Baffo! Amico mio! A me è un amico! Oh, oh! E poi c'hai 700 amici! Ma il tuo amico che non incontro in estrella faceva un muso! Come cazzo è? Ecco è tutta amice! Ah, ecco è tutta amici! Tutta amici! Un punto per strada! Ahhhh! Che fa? Ma sta scritto la pacheca! Ci sono pacheca! Ehi, aggiornami lo Stato! Ehi, aggiornami lo Stato! Ehi, aggiornami lo Stato! Aggiornami lo Stato! No, no, mi stai sentimentalmente... Complicato! 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 Mi stai passando direttamente da Pitantrata a Pugliocio, è scritto lo Stato! Per un momento! Single, single! Single! Affascinante! Affascinante! Metto la foto! Metto il profilo quella... La foto quella... La da most! Da most! Metto la foto! Capite? Che la mi faccio mandare! Mi mando un link! E io ti rispondo! Tutto il profilo da Pugliocio! Però non voleste farla fino ad amiche metri! Che si ne fanno? Adesso era passato lo Stato fidanzato, è passato lo Stato corneggiore! Immediatamente! Ci hanno raggiunto anche le televisioni! Oh! Noi ci taggano sul video! Me ne male! Hai taggato lo video? Possiamo raggiungere ancora più utenti, ancora più iscritti! Oh! Il social network di Ascoli! Me ne male! Dei fare l'affare di chi chiede online! Io c'ho passato 700 amici! Guarda che belli amici che si vengono! Si si si! Perché non è nessuno! Non è nessuno! Se non sei a giornale! Una volta che ho fatto l'affare di chi chiede di Villa Umaccellare! Tu che villavo? Un barrucchiero! 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 Un barrucchio! Che ci vuoi? Che ci vuoi? Che ci vuoi? Doppio click e c'è l'amiche metri! Che fidanzate! Doppio click e fite l'amiche di chi chiede! io sarò buona via mi per vedere la mia madreamina ciao! Guarda se mi ti spegli il modem, se mi si speglie il modem le io mi Meghan also ha... L'acqua non la vuoi che vuole! Oh! Ma dà l'acqua! L'acqua mi fa male! E dai! 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 Questa cazza di Lega! Oh! Guarda se vede un mare. Guarda per me là. Da qua nell'argas e si ricorda come c'era l'opera del mare. E c'era così come il mare. E c'era così l'opera del mare. Lei è così. E' una cosa grossa! Eccolo! Eccolo, guarda! Ora arriva, ora arriva... Arriva! . . . . . . la traccia ha abbronzato su, guarda che abbronzatura che si è fatta e questo è lo che fa ma che c'era vasto? e questo è lo vasto a te oggi vedo facciamo la lezione allora aspetta si venga su si venga su si venga su si venga così taglia, taglia, taglia si facciamo la lezione si facciamo la lezione si tagliamo la lezione si tagliamo la lezione atta atta tutta una spianata che sapuccia la legna come sento? come sento? andiamo piano andiamo andiamo rinacciato ancora? andiamo 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 a produrlo porci. Allora noi facciamo trovate queste raffie. Adesso io lo faccio anche per te. Scusate per i più clienti, no? Perché no? Buongiorno a posso inaugurare il nuovo impianto di Monte Piselli. Praticamente questa è una piantina di Monte Piselli, due piselli. Uno a basso, uno alto. Uno qui praticamente, come facciamo la parte alta, eh? Un scicatore può fruire di una seggiovia in su, in là, in giù, in qua, in su, in là, in qua. E non gava mai. Quattro ore stavendo sopra e la neve non si rovina. Quindi mica scicola. E io... 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 che questo è l'alganza? fai il taglio e passo il tuo camicio è qua taglia 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 tag taglie! a tutti noi sono dei rompicoglioni verdi i soldi è una grande morte un po' di taglia che è una autorizzazione per chi gli ti taglia i cacini guarda lei che è per i cacini e te puoi tagliare al classico 400 miliardi quanto sarebbe 400 miliardi? quanta cacina? tu non sai contare che fino a te ce ne vince io sono tecnico per esempio le nuove imbrane di salita che andavano qui se voi se ne vinceciate vanno a capire è la caluna è la visione è stato che è andata a Moema e della lente è stato che è lenta forte ma guarda qui se ne vinceciate fermene 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 allora guarda il scario sul script non era scaduto il script addirittura cadrà nel 2002 c'è il tuo solito che tu non è il drago è passato fermene 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 guarda il signore che è il panorama io mi devo restringere con gli attori perché qui non vengono la carta e vengono lì per la scuola anche l'orso è giusto